Ciao ragazzi, buongiorno, mi trovo negli studio Ticci Sound, proprio dove ho iniziato a scrivere il brano Buena Femona, che canta a coppia con l'artista Gianni Mezzusi. Faccio questo video per rispondere una volta per tutte alle migliaia di persone che mi scrivono come mai il brano a coppia con te lo sta cantando Daniele De Martino con Gianni Mezzusi, prodotto della Siam Music e vi rispondo. Praticamente è successo un equivoco e l'artista De Martino ha ascoltato questo brano registrato live a una serata mia di Vezusi da un fan, l'ha ascoltato e l'ha rilegistrato, quindi non sapendo che il brano ancora non usciva e non poteva farlo, legalmente non poteva farlo, perché il brano è ancora inedito. Mi sa che si strada alla scelta, non darai netta nessuno, e non darai netta nessuno, non darai netta nessuno, non darai netta nessuno. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie Grazie